Forchelli, lei tornerà in Cina e pensa che è dalla Cina che abbiamo importato questo coronavirus? Sì, ma di fatti non è un cigno nero tecnicamente parlando, perché è la terza epidemia nel giro di 20 anni, c'è fu la viaria nel 99, la SARS credo nel 2003, e poi questa, tutto è dovuto a questo rapporto di vicinanza tra animali e persone, sì, tornerò in Cina, però probabilmente cercando di vendere più che investire, perché ormai i grandi investitori si sono reso conto che, preferisco prendere dei prodotti italiani, continuare a produrre in Italia e venderli in Cina, piuttosto che portare a produrli in Cina, perché la Cina sta diventando cara e sta diventando pericolosa, perché prima abbiamo avuto il problema dei furti e tecnologie, poi dopo il problema dei dassi e adesso questo problema delle rotture della catena di approvvigionamento, gli investimenti italiani in Cina sono in calo da anni, come pure l'investimento mondiale che non sono in calo, l'investimento lordo fisso mondiale in Cina è fermo da 20 anni, in percentuale del PIL quindi è molto basso perché la Cina cresce molto, sostanzialmente, soprattutto quello manifatturiero. C'è una percezione di questo rischio per cui la gente cercherà di andare in Cina strettamente a produrre quello che serve al mercato cinese, ma non per produrre cose che devono essere poi riesportate. Quindi scusi, questo vuol dire che le aziende, sono tante le aziende, anche aziende italiane che hanno delocalizzato in Cina in questi anni, perché lì il costo del lavoro è bassissimo, non lo faranno più, cambieranno paese sempre nell'Asia, nel sud-est asiatico, cosa succederà e per noi che conseguenze ci saranno? Primo cercheranno di fare il reshoring, in gran parte si cercherà di tornare in Italia, cercando di continuare a vendere in Cina e producendo dall'Italia, poi si cercherà di bilanciare la presenza nell'area andando in Vietnam e in Bangladesh, che sono i mercati più promettenti, che hanno dei costi molto, molto inferiori alla Cina, perché ormai la Cina ha dei costi che per certe figure professionali sono superiori all'Italia. Però adesso se mi dice vent'anni fa uno andava in Cina e dicevano guarda fai della roba bellissima dieci anni fa, però costa troppo, la devi produrre qui e quindi uno era obbligato per andare sul mercato a investire. Adesso sostanzialmente dicono mi piace e la compro, perché i costi sono più o meno lì, a parte le funzioni di bassissimo valore.